Professor Propersi, pianificazione urbana e territoriale di Abruzzo Molise, oggi c'è questo importante convegno a Pescara, di cosa si è parlato in concreto? Intanto il convegno è fatto in relazione all'Assemblea dell'Istituto Nazionale di Urbanistica che promuove questa riflessione in relazione al recente cambiamento del governo regionale e anche di molti governi dei principali comuni dell'Abruzzo. Riteniamo che sia necessaria questa riflessione per risolvere essenzialmente due aspetti. Il fatto che la pianificazione in Abruzzo è una pianificazione estensiva, nel senso che tutti i comuni hanno uno strumento urbanistico, la regione ha fatto molti piani, le province hanno i loro piani, però questo ormai è abbastanza datato. Quindi riteniamo necessaria una riflessione di questi enti sulla necessità di promuovere una nuova pianificazione attenta ai problemi del territorio, del paesaggio e dell'ambiente. L'altra questione è che questo avviene in un momento di crisi economica del paese e in particolare dell'Abruzzo. Noi riguardiamo l'Abruzzo nella sua dimensione mediana, sia da un punto di vista statistico e geografico, ma anche utilizzando il termine di mediano nel gioco del calcio. È una regione che può far ripartire diverse economie e può far ripartire economie locali, però se c'è una riflessione basata su due criteri, la coerenza delle azioni e la compatibilità delle stesse.